Innamoranti di te, della vita e dopo di chi vuoi. Allora, questa è una frase di Frida Kahlo, è una frase che è molto semplice, diretta, però ci fa capire delle cose veramente importanti, ed è sempre quello che ho sempre detto io, tra l'altro, che per amare gli altri dobbiamo imparare ad amare noi stessi. Per godere dell'amore di qualcuno e per dare amore a qualcuno, dobbiamo prima di tutto amare noi stessi e questo è il punto fondamentale. Quindi vai a ripetere come un mantra, io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono, ma soprattutto io sono la persona più importante del mondo, perché se tu non reputi te stessa o te stesso la persona più importante del mondo, ce l'avrai sempre nel culo, perché delegherai agli altri la tua felicità e la tua infelicità tu non devi delegare a nessuno se essere felice oppure no, tu devi essere felice a prescindere e questo dipende da te. Devi utilizzare gli altri come degli strumenti per erogarti delle emozioni. Soltanto in questo caso potrai poi interagire positivamente con le altre persone e ottenere, come dire, la capacità di poter dare e poter ricevere amore. Ma, ripeto, non in senso di, ah io lo amo, io lo amo. Se una persona ti fa girare i coglioni, levatela dai coglioni, fa pure rima. E c'è pure un'assonanza, non devi stare lì a perdere tempo con chi non ti dà quello che tu vuoi, con chi non è allineato a quelle che sono le tue esigenze. Tu devi imparare a avere, diciamo, la forza di amare a te stessa, a te stesso, e poi di amare la vita, amare le cose che fai, coltivare delle passioni, coltivare degli interessi. Le altre persone sono degli strumenti, se ci sono, ci sono. Se non ci sono, ne troverai altre, perché, come dire, il mondo è un mare pieno di pesci, c'è pieno di gente, il materiale umano non manca mai, insomma, siamo un pianeta sovrappopolato. Quindi non devi assolutamente accontentarti, non devi assolutamente pensare che soltanto una persona, ad esempio, possa darti la felicità. La felicità devi trovarla dentro di te e poi potrai trovare tutte le persone che vuoi. Prima, diciamo, di tutto, iscriviti al mio canale YouTube, Massimo Terramasco, crescita personale, crescita benessere, molto stima, tutti i miei canali, il nuovissimo canale esoterismo e spiritualità con Massimo Terramasco, becca amalgasciona. Poi, diciamo, seguimi su Instagram, Massimo Terramasco ufficiale, e ovviamente seguimi anche su TikTok e ricordati che, di ripetere questa frase, Io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Ciao a tutti, al prossimo video.